La scuola dei padroni, 10-100.000 occupazioni! 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 La scuola dei padroni, 10-200.000 occupazioni! con la lotta con la pubblica con i dottori non ci renderemo con la lotta con la pubblica con i dottori non ci renderemo con la lotta non ci renderemo con la lotta con la pubblica non ci renderemo con la lotta ma sta corsa che sbagli ci fanno e basta ma chi sa chi va a dire a me da giugare a ballone a b a c a to perché se era Giori Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!